Ho notato che anche Crash sente caldo perché sta sempre a torso nudo O no? Ehi ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale Io sono Magnus Siamo sempre qui con Crash Bandicoot La voglio dire in maniera rilassata e in maniera tale Perché inizio già rilassato Così poi abbiamo tutto il tempo di cazzarci nei vari livelli Naturalmente come al solito video Come sempre mettere un bel pollice azzù Un bel commento, un bel mi piace Ci buttiamo subito al prossimo livello, vai! Quindi continuiamo con Road to Nowhere Ok, già dice Danger, quindi... Ah, che meraviglia, abbiamo anche le vincibilità, capirai Eh no, vabbè, qua quindi non moriamo E quindi questa ci può fare comodo Allora, ste tra... Ok, penso di aver capito che dobbiamo stare attenti alle travi Perché in pratica si rompono Ok, maialino te ne vai, ok Vai, perfetto Ok Ok C'è poi il traggiunto Attenzione Ah, c'aveva pure il maialino là Aspetta, eh Vediamo un po' se riesco ad ammazzarlo Ciao maialino Però qua devo stare attento perché non ho capito che c'è Devo andare un po' più avanti Devo andare un po' più avanti In pratica qua salto qua Salto qua Ok Mamma mia, mamma mia Ok Grazie al checkpoint Nooo, perché hai fatto questo salto di merda? Mamma mia, ok Quasi non capivo Una Ah Ah Ok Ok Qua non posso saltare Anche perché sarebbe Impossibile Cavolo Vai Vai, vai Giù, vai, vai Giù, vai La grande Cavolo Cavolo Ok Porca misera Che ci sta qua Qua è tutto scivoloso Vabbè L'importante è fregare Sto cavolo di cinghiare Ma tanto anche se non muore Così non ci dà pressione Ok Ok, livello bonus Attenzione che qua L'avete abbastanza Facciamo attenzione perché qua stavamo cadendo Allora iniziamo Tanto qua siamo tranquilli Ah, qua si passa in mezzo Ok Un bel salto Qua E qua che Penso che Mi servono come il pane Qua ai livelli Vai Ok, stavolta mi metto qua sotto Perfetto Allora, qua non ho capito niente Però Ok Perfetto Pensavo di beccato Ah, è stato facile Ci potevi dare anche qualche altra vita Eh, però Vabbè L'importante è che abbiamo fatto Dove lo bonus Luca Ah Ok, già ho capito Mi sembra troppo strano Che c'è la tartaruga là Ok Ok Chissà se ci riusciremo a saltare per bene Ok Vai Vai Oh, cavolo Oh, cavolo Ok Oh Vi dico la verità Non pensavo proprio Di aver Beccato Vabbè Sicuramente ci saranno altre casse Da altre parti Però Undici Personalmente Per come è stato il livello Vi assicuro che è stato veramente poco Vi dico solo questo 32 minuti Per fare questo livello Fantastico Ok Prossimo livello Abbiamo Wotterdash Allora Forse secondo me vado meglio con il Pad Con i tasti Voglio dire Non so perché Ma Penso che vado meglio con i tasti Poi Mazza Anche se Gli dito la verità Ok Questa cosa che mi dà tutta sta fretta Porca miseria Ok No Cioè guardate dove sono morto Non mi Ok Checkpoint l'abbiamo raggiunto È fantastico Aspetta Vai Ma Ma No è così Non riesco a muovermi però Quindi vado meglio Vado meglio così Ah Porca di quella miseria Mamma Ah Ci abbiamo pure le cose di lato qua Aspetta Aspetta Aia Mi stava pure scivola Non dito So Vai Mazza che sei alto Ok Qua non so neanche come ho fatto Ok Calma un attimo Vecchiamoci Checkpoint Aspetta Questo Aspetta E andiamo Dai Se non mi scivolasse il dito Ma staremo alla gra Ecco tipo Non è una buona idea Il fatto di aver preso Il palo là Attenzione qua vai Tanto è qua È facile no Non sappiamo fare Quindi Con calma E vai Ok Salta questo Ok 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 Quante casse mi hai fatto perdere Ammazza Una marea Ma dove stanno Ma le nostre casse L'ho proprio viste Poi vabbè Non so se è perché ero concentrato Sul personaggio Ma porca L'importante è che abbiamo superato Questo alto livello E possiamo andare alla grande Sì vabbè Ti ammettiti un casco La prossima volta E chi se ne frega Queste casse Ok Prossimo livello Andiamo a Sunset Vista Ok partiamo Ci daresti qualche vita Visto che ne abbiamo poche No eh Vabbè Andiamo avanti Il fuoco si è spento Quindi dobbiamo aspettare un pochetto Vai Vediamo Ok Qua abbastanza tranquillo Perché è basso Va bene Dammi le mele Questo è un blocco Ed è tranquillo Ed è Iniziamo Ok Qua non c'è niente Ciao Allora Iniziamo da questa altra parte Rano occhietto Vedi di morire Bravo Mamma mia Oh Eh raga Quando si dice che sia culo Questo è culo Ok 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 C'è qua Intraggiuto Andiamo Perfetto La secondo me è sbagliato Oh Ok Stai calmo Stai calmo Non rischiamo Che qua è facile Vai Ok Ok Perfetto Tac Tac E tac Questo è il tempo Ok Ok Non c'è niente Ok Fammi dire se qua c'è qualche tranello Sembra di no Ok Questo è un blocco Ok Prima l'abbiamo fregato Attenzione al fuoco Ok Ok Aspe 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 Partiamo già cagati addosso Vai Ok Vai Anticipiamo troppo Vai Ok Vai Adesso Ok Oh cavolo Allora Ce la possiamo beccata Grande Allora Qua Sembra Guarda prima Quindi Tac Tac Ah Non potete immaginare Quanto mi sono incazzato Ragazzi Non lo potete anche immaginare Ok Oh Bastardo Fai Bastardo Basta Ok Però tipo Un checkpoint Sarebbe gradito Tipo Ormai Siamo qua giù Ho anche una vita Niente L'intenzione è qua Che questo è bastard Ok Tac Quindi facciamo così E così Ok Ok Vai qua dentro Ok Cioè qua Io l'abbiamo raggiunto Meno male Ahia Qua che ci sta Guarda adesso Guarda adesso Guarda adesso Guarda adesso Guarda adesso Ok Qua non c'è niente qua Che strano che non c'è niente qua Aspè Allora qua Meno male Ci siamo beccati Un po' di cose Allora io farei una cosa Perché ho paura Che là Si cade Quindi E' sempre alternato Vero? Sì Ok Ok Ma ma dove vado Provo andare Un attimo di qua E vediamo Ma di qua Non si va Ok Deve stare attento Ok 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 Qua abbiamo il fuoco Che meraviglia Ok Perfetto Ma col fuoco qua Non è che Ok vabbè Pensavo di morire Ok Dove mi stai portando Bello Dove mi stai portando Ok Mamma mia ragazzi Qua Avete l'impressione Di quando bisogna Per forza Morire Ecco Ah Eh vai Non sono assolutamente Morto Non sono assolutamente Morto Non è proprio vero Questa è una finta Vabbè Vai Ok Però ho capito Anche Quale è la cosa Che bisogna fare Attivare Tipo ci dai qualche vita No eh Solo casse Ora capisco Perché a volte Le casse Non le distruggiamo Siamo letteralmente Rovinati Ragazzi Ve lo dico Devo stare attento Qua Ok No Quindi me ne fa due Ok Vai Perfetto Il primo L'abbiamo fregato Vai Andiamo giù E vai Non è questo Il turno E questo Vai Ok Vai vai Passate Vai vai Perfetto E andiamo Questo è un blocco Eh sì Ok Devo stare attento Qua Ah Allora Qua ho avuto Culo Ma non ho capito Qua penso Qua penso che qualcosa Si romperà sicuramente Vai Vai Ok Bel salto Ok Un'altra Bella vita Ok Un bel Checkpoint Vai Ok Ok E andiamo Ok 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 Grazie per le vite Saranno apprezzate Perfetto Ok Ok Che culo Allora E adesso Perfetto Lo devo sincronizzare con l'altro di là Porca Porca miseria Ragazzi Mamma mia Aspetta che qua ci sta una vita Grande Qua è qua dentro Guarda che ci becchiamo la carta cassa Oh Ve ho beccato di tutto E qua Non voglio morire Ah Mi sono perso Cavolo C'era il dottor mio per becchiarci Il livello bonus Non l'abbiamo becchiato Per poco Eh però Vabbè Non fa niente Dai Badiamo al risultato finale Qua già lo vedo abbastanza Ce la faccio saltare di là Secondo me Porca miseria Facciamo delle cose con cautela Non moriamo come fessi che negli Vai Ok Perfetto Il livello bonus Non ce lo becchiamo E questa cosa mi dispiace Vai E andiamo Togli la fiamma Ok Che c'è qua E non l'abbiamo beccata i tre E vai Qua Ok Sempre alternato Ok Mamma mia Ok Attenzione Eccolo qua Livello bonus Ce lo andiamo a fare Ok Allora sembra facile questo Quindi si dovrebbe fare così Magari non moriamo così Tac 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 Ok Ok ce ne possiamo anche andare poi Ok Eh si E infatti è stato Abbastanza facile Quattro vite Quattro vite Sto un po' più Rilassato Non completamente Vediamo se questo Ok Questo a meno è solito E non ci abbandona Attenzione a non morire Maia Mamma mia Mamma mia Questo è proprio spaventoso Attenzione Eh si E secondo te adesso Dove salto Ok Ecco Ecco qua Che culo che abbiamo avuto Vai Porca mi Il culo non ci può assistere sempre Ve lo dico Vai Vai Ok Checkpoint Ah no è più veloce Perciò Ok E andiamo Ok Abbiamo finito Tutto animaletto Che Non dovrebbe essere Difficile Però aspettate un attimo Io voglio fare un attimo Una cosa Visto che lui Non so se ci seguirà all'infinito Ci seguirà all'infinito? No? Aspetta Bello questo Questo è stato galattico Aspetta Ok Ah va a cagare Ah C'ha dato Due le vite Quante non mancate? Vabbè Abbiamo mancato Un bel po' eh Però Non fa niente Eh Shiu Direi Grande A gran voce Sto casco Mancate lo metti Vabbè Non fa niente Porca la miseria L'importante è che siamo riusciti A superare Quest'altro Vedere Magari Mal di schiena È distrutto Praticamente Koala Kong Vai E a questo punto Ce lo distruggiavo Un attimo Sperando Mi sapevo distruggere Ma sicuramente Lo sappiamo distruggere Amazza L'avete abbastanza forte Oh Dobbiamo capire Come dobbiamo distruggerlo Adesso Adesso non ho capito Amazza Vabbè Allora Inizia Ah Lancia Le pietre Come facciamo Con le dinamite Aspetta un attimo Ah Forse ho capito Aspetta Questa è Aspetta Ok ok Abbiamo capito Se non intensifichi Le bombe Dovrebbe essere Abbastanza facile Se non intensifichi Le bombe Aia 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 Qua abbiamo avuto Fortuna Quindi Attenzione Questa è più lenta Vai Vai Ma che avanzano pure Le pietre Aspetta Attenzione Oh Ok Questa è la lancia Parecchie Aia Aspetta Ok Perfetto Ultimo colpo Questa cosa è scadente Che va Arriva Che va Arriva Va da qua Va da qua Uff Aia Aia Vai Vai Scoppa Scoppa Vai Ok Vai Beccato Beccato Andiamo È morto No No Sei incazzato Ah Ok Meno male che è morto Pensavo che non fosse morto Trofeo guadagnato Che apirei Ok perfetto Quindi siamo passati alla seconda Anzi no Alla terza isola Mi sto esaurendo Sto capendo più una mazza Naturalmente come passate il video Come sempre mettete un bel pollice Un bel commento Un bel mi piace Fatemi sapere la vostra Naturalmente vi invito Come sempre a iscrivervi A seguimi sempre sui social Trovate tutte le info Nel box Info Facebook Telegram Instagram Seguitemi Noi ci vediamo Nel prossimo video E bye bye